Bar Tabacchi Simonetti di Pietro Simonetti, unica sede via Umbria 186 Taranto, aperto 365 giorni all'anno. Caffetteria, prodotti di pasticceria, panini. Al Bar Simonetti il caffè si gusta seduti sia all'interno in un ambiente climatizzato, sia all'esterno in una cornice fresca ed accogliente. Il Bar Simonetti è fedele alla tradizione Illy Caffè ed è stato premiato con l'esclusivo riconoscimento artisti del gusto. Ampia e di qualità la nostra offerta, anche vini, prosecchi e champagne. Si organizzano pure ricevimenti e buffet, tanti inoltre i nostri servizi. Identità digitale Speed, prelievi bancari contanti, poste pay, raccomandate postale, Calcio scommesse, attivazione e carte prepagate, e-commerce o Babaluba, biglietti stadio, eventi culturali e spettacoli. E ancora, fax, email, fotocopie e tanto altro di Bar Tabacchi Simonetti. Vi aspetta per offrirvi la qualità, la professionalità e la convenienza di sempre. Grazie a tutti.